Amici sportivi Benvenuti alla Pala Rosselli di Aprilia da Fabrizio Agostini e Roberto Cesare Giornata numero 23 del campionato di Serie C2 Girone C In campo tra qualche istante si sfideranno lo United Aprilia in maglia nera Numeri oro contro la Virtus Divino Amore, maglia celeste, numeri bianchi Ormai è tutto pronto, arriva il fischio arbitrale del signor Vannoli della sezione di Latina Questa è ancora dallo United, Pignatiello prova ad andare via, Pignatiello destro palla sul palo Poi Pacchiarotti a rimorchio, gran parata da parte di Bertucci Padellaro blocca tutto, Bernoni scappa via Poi Pignatiello palla in rete, 1-0 United Ha sbloccato Pignatiello Pignatiello, Bernoni tutto solo occasionissima per il raddoppio C'è Bertucci che blocca, si riprende con calcio di punizione Pacchiarotti, Pacchiarotti mette in mezzo Pignatiello tutto solo, 2-0 Doppio Pignatiello Padellaro raddoppiò su di lui, allora conquista palla Galafate Andreoli perde palla, poi gran parata di Masullo Si gira con calma, Padellaro dentro, pallone In occasione ancora sventata da Masullo Pallone riconquistato dalla Virtus Divino Amore che prova a distendersi San Martino prova al destro, ancora Masullo Verticalizzazione di San Martino Poi arriva la rete, Rocambolesca Ma intervento efficace di Amicucci su questa palla vagante Non riesce a ripartire efficacemente come inizio partita E allora Padellaro e arriva il pareggio Il pareggio da parte della Virtus Prova ad accentrarsi Bernoni, Bernoni destro la parata di Bertucci Pacchiarotti, ancora Bertucci Doppio intervento Un bel palleggio di Bernoni per Pacchiarotti Accelera Pacchiarotti, poi arriva un miracolo di Bertucci a botta sicura Dentro Pignatiello Sfiora e colpisce il palo Pignatiello Per Pacchiarotti 1-2 Ancora Pignatiello che non concretizza Pallone per Padellaro ancora Palla fuori, non di molto Pochi gli spazi, si difende bene la Virtus Poi scappa via Pignatiello Il destro, Bertucci, ancora Pignatiello, ancora Bertucci Galafate verticalizzazione Il sinistro vincente di Bernoni Diagonale Radente 3-2 Non riesce a raggiungere la sfera Bernoni però si conquista palla Bernoni, Andreoli salvataggio sulla linea di Padellaro Salva tutto Poi San Martino Vince un rimpallo San Martino smarca Cirilli Pallone che Danza sulla linea Bernoni Mette dentro Pallone che rimane lì però Ciampanelli, Andreoli 4-2 La sfera che è rimasta All'interno dell'area Non è riuscita a spazzare la Virtus Ora bruma palla a Bernoni 3-1 Bernoni Appoggia Pignatiello Ancora Bernoni Andreoli Salvataggio sulla linea Ancora Bernoni Non concretizza lo United E allora Padellaro Dall'altra parte Amicucci Per l'errore Sottoporta Fa fuori 3 giocatori Poi si ferma davanti a Pignatiello Contro piede United Bernoni Bernoni E autorete Della Medica Arriva la cinquina La deviazione Breck United Andreoli Andreoli Lascia Pacchiarotti E la palla in rete Ha provato ad opporsi Bertucci La sfera che è Sgattaiolata all'angoletto Non c'è tempo per il calcio d'angolo Termina la partita 6-2 In favore dello United Aprilia Sulla Virtus Divino Amore Riprende la marcia Della formazione di Serpietri Da Fabrizio Agostini E Roberto Cesare Un saluto A tutti voi Che ci avete seguito